Buonasera, buon sabato e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Dunque in primo piano come leggiamo anche dal portale etvmarche.it apriamo con un incidente sul lavoro perché il titolare 57enne di un'officina meccanica a Monterado di Tre Castelli è rimasto gravemente infortunato mentre stava lavorando sotto la cabina di un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione di vigili del fuoco e carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 le gambe dell'uomo sarebbero rimaste schiacciate sotto le ruote del camion e così gli avrebbero causato traumi e fratture. L'artigiano è stato caricato sull'ambulanza per il trasferimento fino a un terreno nelle vicinanze dove poi è atterrato l'elicottero Icaro per il trasporto d'urgenza agli ospedali riuniti di Ancona. Sono in corso come detto le verifiche per ricostruire la dinamica di questo incidente e nella stessa giornata e nella stessa mattinata i vigili del fuoco sono stati impegnati sempre nella zona di Senigallia per lo spegnimento di un incendio avvenuto all'interno di un garage. In quel caso ha preso fuoco un'autovettura, non si registrano intossicati o feriti, anche in questo caso le cause sono in corso di accertamento. Ed ora andiamo a macerata, botte e morsi ai carabinieri durante un controllo antidroga nei pressi di via Roma. Un nigeriano di 23 anni senza fissa dimora ma in possesso di regolare permesso di soggiorno ha reagito con violenza ai militari del nucleo investigativo del reparto operativo che stavano procedendo alla sua identificazione nell'ambito di controlli più ampi per stroncare appunto il traffico di droga nella provincia. Il giovane ha colpito e ferito anche a morsi militari e poi è scappato, è stato fermato e poi arrestato per esistenza a pubblico ufficiale. Invece i due militari che sono rimasti feriti si sono stati curati al pronto soccorso, ne avranno per dieci giorni. Ed ora nelle zone colpite dal sisma del 2016 il post emergenza che porta però anche molti disagi connessi in particolare alle reti fognarie che sono stati riscontrati da alcuni cittadini delle SAE le soluzioni abitative di emergenza di Valfornace e Visso. Lo denuncia l'associazione La Terra Trema Noi No che scriverà, dice, ai consorsi e a chi ha eseguito le opere affinché siano eliminati vizi e difetti nel minor tempo possibile. Cielo limpido e temperature di nuovo in rialzo, estate last minute in questo sabato dove molti hanno trascorso questa giornata al mare e quindi concedendosi scampoli di tintarella. I più coraggiosi magari si sono lanciati anche in un ultimo tuffo di questa estate in tutta tranquillità. Infatti il comune di Ancona ha nella giornata odierna revocato il divieto di balneazione negli specchi d'acqua, antistanti Passetto, Pietra la Croce e Porto Novo. Il provvedimento, lo ricordiamo, era stato assunto nelle scorse settimane dopo la rilevazione di massicce concentrazioni di ostreopsis ovata. L'alga tossica che in fioritura può causare disturbi respiratori intestinali e irritazioni alla pelle. E parliamo di turismo, grande interesse e attenzione da parte dei buyer europei e di oltreoceano per l'offerta turistica marchigiana. A Pesaro itinerari, proposte vacanze e grandi eventi 2019-2021 con Buymark e gli scambi commerciali B2B. Facciamo il punto, vediamo. Marche, endless beauty, bellezza infinita è il messaggio con cui la regione si è presentata a 65 buyer esteri provenienti da più di 15 paesi a Pesaro, dove si chiude la tre giorni di Buymark, l'evento internazionale in cui 150, tra turo per etro e strutture ricettive della regione, hanno incontrato i vettori stranieri per stringere relazioni commerciali e migliorare i numeri del turismo. Se quello italiano tiene, quello estero ha bisogno di una spinta in più, anche puntando sull'aeroporto, reduce da problemi di gestione e di natura finanziaria. Una tappa raggiunta a quella dell'approvazione del concordato preventivo, ma la cosa fantastica è stata in questi due anni, con notizie drammatiche sull'aeroporto, tanti operatori di voli che si sono rivolti ad Erdorica per crescere in termini di frequentazione. Noi abbiamo tanti motivi per avere questa infrastruttura, uno certamente è che le imprese marchigiane vanno fuori, ma l'altro sono dei connettori naturali con i territori. I voli estivi, il potenziamento che c'è stato, le rotte verso i paesi baltici, che dimostrano che nell'interesse per l'Italia c'è un interesse anche per le marche. Quest'anno abbiamo fatto la prima operazione di voli charter da Kiev, Vilnius e Riga. Verso Ancona abbiamo fatto più di 1500 arrivi che si sono soccionati, fermati veramente nelle marche, su tutta la costa, tutti i 180 chilometri da Gabice Mare fino a San Benedetto del Tronto, in tutte le strutture diverse, in diverse categorie, dal villaggio fino alle 5 stelle. L'entroterra con le corsi di cucina, poi la caccia di tatufo, Urbino, Ascoli Piceno, con la degustazione di vino, abbiamo creato un po' di emozioni e su questo stiamo lavorando per continuare anche l'anno prossimo. I numeri parlano di un quarto del turismo straniero legato alla nostra regione e è una stima questa che noi vogliamo sicuramente migliorare per il futuro, puntando intanto ai mercati di prossimità, dal mercato tedesco a quello anglosassone, per poi allargarci un po' al resto degli altri paesi. Ed ora andiamo a Recanati, 50 anni dell'azienda MAC, si segna la rotta, quindi dopo mezzo secolo tra radice e innovazione, una mostra fotografica tra l'altro racconta questa storia, tutto nel servizio di Alessandra Napolitano. Sentiamo. La MAC di Recanati celebra 50 anni di attività. Nata nel 1968 come laboratorio di produzione di amplificatori valvolari per strumenti musicali, oggi è un'eccellenza marchigiana nel mondo, nella progettazione e nelle produzioni di soluzioni tecnologiche. Mezzo secolo di ricerca e sviluppo all'avanguardia che vengono celebrati anche con una mostra fotografica dedicata, Pensiero, Uomo, Tecnologia. Cosa rappresentano queste fotografie? Queste fotografie rappresentano un po' il mondo da dove è nata questa azienda. Una parte della mostra rappresenta il territorio, che è un fatto importante per questa azienda e un'altra parte della mostra racconta un po' le nuove tecnologie e dove si vorrebbe arrivare con l'aiuto di queste tecnologie. Quanto è importante un'azienda di questo genere per la Regione Marche? Sono aziende che hanno radici profonde, facendo 50 anni testimoniano un percorso molto lungo che fin dall'origine hanno fatto dell'aggancio alla contemporaneità la loro caratteristica. Quindi aziende che sanno interpretare il mondo di oggi in una maniera più avanzata. Un esempio, noi siamo da ormai più di 20 anni un partner tecnologico per Enel e le abbiamo supportati sempre nel settore legato al contatore elettronico e in questo senso, in quest'ottica abbiamo ad esempio qualche anno fa sviluppato per loro la colonina di ricarica dell'auto elettrica. Un progetto molto ambizioso perché nasceva in un momento in cui era proprio agli inizi del settore dell'immobility. Siamo partiti dal concetto fino alla realizzazione e alla produzione del prodotto stesso. Il nostro territorio è formidabile, ricco di spunti, stimoli, di valori. Siamo circondati dal bello. C'è voglia di lavorare, c'è capacità di lavorare e tutti questi elementi sono fondanti, sono importanti ma bisogna unirli ad altro. E quindi la tecnologia, l'innovazione ma anche una proiezione a livello internazionale. Da sempre abbiamo relazioni in tutto il mondo sia direttamente che tramite i nostri clienti. Ed ora la notte dei ricercatori tante piazze europee appunto e italiane le piazze delle Marche, Ancona e Macerata e quindi andiamo a vedere cosa è successo proprio a Macerata nel servizio di Roberto Properzi. La notte europea dei ricercatori 2018 in Italia ha sviluppato 9 progetti per un totale di 116 città. Uno di questi è stato, Sharper, tradotto condividere le passioni dei ricercatori per il coinvolgimento e la responsabilità. Si è svolto in 12 città di 8 regioni tra le quali segnaliamo Napoli, Trieste, Palermo e Cagliari. Nelle Marche la ricerca è scesa in piazza con Sharper ad Ancona e Macerata. Di nuovo in piazza per il secondo anno quest'anno in collegamento con una rete di città in particolare con la città di Ancona Politecnica delle Marche. Lo spirito è quello di raccontare la ricerca che viene svolta all'interno dei nostri atenei di farlo incontrando le persone delle più diverse generazioni attraverso una molteplicità di linguaggi e una molteplicità di incontri che vanno dal teatro alla piccola conferenza al caffè letterario a anche tanti incontri per i bambini tante forme laboratoriali attraverso le quali cerchiamo di raccontare quanto la ricerca impatti sulla vita quotidiana delle persone. Come visto l'evento si è rivolto a tutti i grandi e piccini dando la possibilità di confrontarsi con le sfide che gli scienziati affrontano ogni giorno sfide anche difficili. Certo la ricerca è sempre un po' in un momento di difficoltà perché la ricerca parla di ciò che ancora non si vede di ciò che ancora non è stato guadagnato di ciò che ancora non può essere capitalizzato in qualche maniera e mostrato come un risultato l'ha raggiunto. La ricerca racconta tutto l'entusiasmo il percorso che si fa per cercare di arrivare a qualcosa di cui ancora non disponiamo ma che può rendere la vita quotidiana di ciascuno una vita migliore. Questo è un momento di festa attraverso il quale ovviamente cerchiamo di raccontare prima di tutto il nostro entusiasmo. Ed ora andiamo al sito internet etvmarche.it Miss Italia Montegiorgio abbraccia la più bella l'immagine postata sui social la ritrae sorridente commossa mentre lancia un bacio alla folla la Miss scrive non bastano parole per esprimere quello che il mio cuore ha provato ieri sera la foto dice tutto ecco dunque Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018 festeggiata nella sua Montegiorgio con la banda musicale il corteo la torta per il ritorno nella sua città natale in un clima di entusiasmo generale di concittadini e autorità il primo pensiero della 26enne accompagnata dal marito emiliano è andato a coloro che soffrono le conseguenze del terremoto che ha colpito il centro Italia e anche dunque la provincia di Fermo non c'è regalo più bello ha detto al microfono di una festa organizzata per te dai tuoi concittadini dalle persone che ti hanno vista crescere e che ti vogliono bene qui in mezzo a voi davvero mi sento Miss Italia ed ora per quanto riguarda gli appuntamenti ve ne segnaliamo uno in questi giorni un appuntamento per curiosi addetti ai lavori senza dimenticare i più piccoli con il villaggio Lego a Girolla di Fermo dove è in corso la fiera dell'elettronica l'undicesima edizione oggi e domani dalle 9 alle 19 domani invece ad Ancona torna un appuntamento storico quello con la regata del Conero sentiamo Giulia Boschi oltre mille velisti da tutta Italia sfileranno per 12 miglia lungo le acque azzurre della riviera Dorica per la 19esima edizione della regata del Conero appuntamento con la vela nazionale e internazionale che per quest'anno si terrà domenica 30 settembre anziché la prima domenica del mese tra gli iscritti anche imbarcazioni note del panorama velico internazionale come Pegaso di Andrea Giovannelli e il Far 400 Freccia del Chienti di Piero Paniccia oltre imbarcazioni che nel percorso di avvicinamento alla cinquantesima barcolana di Trieste hanno scelto di fare tappa ad Ancona per partecipare alla regata appuntamento sulla linea di partenza del passetto alle 11 di domenica 30 ma tante anche le iniziative collaterali già a partire dal pomeriggio di sabato 29 partecipiamo in un circuito che parte a primavera dal nord del Tirreno e si gira scende in tutto il Tirreno al sud dell'Italia arriva Marinadori che si conclude con la barcola mitica a Barcolana che è una delle regate più famose del mondo e rientriamo in questo percorso dei diportisti che risalgono per concludere le regate a Trieste Per quanto riguarda i partecipanti qualche numero? Sono molti partecipanti di fuori che giungono a tutto il litorale adriatico particolarmente da sud dall'Abruzzo dalla Puglia stanno girando anche dal Tirreno noi contiamo di superare il limite il numero di 200 partecipanti che comporta circa 5.000 velisti in questo splendido scenario di 12.000 di percorso ci sono 50 premi tra targhe e tofei insomma coloreremo il conero anche facendo due conti delle barche che parteggono sono 50.000 metri quadri di vele spiegate lungo la riviera del conero e questo era il nostro ultimo servizio noi ci fermiamo qui vi ricordo che trovate le nostre notizie sempre aggiornate anche sul portale etvmarche.it grazie davvero a tutti voi per averci seguito buon weekend a tutti